Sono a New York e oggi vediamo se la pizza a 99 centesimi è buona È un posto abbastanza rozzo, però sul menù possiamo vedere che la cheese costa appunto 99 centesimi Qui c'è l'offerta di due tranci di pizza e una bibita o acqua a 2,99 Il locale è abbastanza normale, è molto piccolo Abbiamo tutte le pizze a disposizione, come questa qua vegetariana Questa qua con l'ananas e il bacon Con ananas e salame Questa qua con salsa barbecue Mi sta venendo da piangere Quanta maestria, proprio di Napoli Quello che fanno molti è metterla qui sopra Prendere questa salsa, un po' di origano Gli buttiamo anche roba piccante Ed ecco qua la nostra pizza a un dollaro La pizza dietro è così, molto basic, sembra quasi surgelata Ma vabbè dai, facciamo sto sacrificio Fa abbastanza schifo È molto morbida in realtà, ma sembra lasciata due o tre giorni in frigo Ma è che è carnevale qua, oh Onestamente non mi piace, fa schifo Voto due e si capisce perché costa solo un dollaro E vedi che non ti mangi E vedi che non ti mangiare Grazie.